Che ci abbiamo? Valentina Motola, sì, perché questa, diciamo, canzone ha delle sonorità bellissime, quindi l'abbiamo scelta proprio come finale, perché diciamo che è una canzone molto sofisticata e sfocia su sonorità jazz, ma che ritmo in blues, un piano che ha bisogno anche di molta interpretazione e sicuramente questo Valentina Motola ce l'ha, è cresciuto attentissimo, ha iniziato anche lei con la recitazione, e poi non ha trovato nel canto la sua strada, è vero? Grazie Valentina. Chiuderà con questo brano la prima parte dello spettacolo, quello di terzo, quarto e quinto e quindi ce lo annuncerai tu. What are you doing the rest of your life? What are you doing the rest of your life? What are you doing the rest of your life? I have only one request of your life That you spend it all with me From the seasons and times of your days What are you doing the rest of your days What are you doing the rest of your days? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.